Bene amici, decreto anticipi, indirittura d'arrivo con aumento con guaglio per equativo anticipato a fine 2023 invece che decorrente da gennaio 2024. Ne stanno parlando e scrivendo tutti, tra novembre e dicembre quindi si alzeranno i cedolini di tutti i pensionati ma oggi in particolare vediamo quello che accadrà, tabelle alla mano alle pensioni, agli assegni di invalidità e all'assegno sociale. Anche perché oltre al conguaglio di per equazione arrivano anche gli arretrati. Io sono Mr. Lul, mi raccomando un bel like e partiamo con questa domandona. Quando ci sarà davvero questo aumentino e quanto vi entrerà effettivamente in tasca? Allora per novembre non credo proprio, i tempi sono troppo ristretti anche per permettere a IMSS di effettuare le operazioni entro l'uscita del prossimo cedolino, quindi presumo che andremo a vedere il tutto a dicembre 2023. E quanto è questo tutto? Beh sapete parliamo di uno 0,8% di incremento per equativo. Si tratta della differenza tra il 7,3 e l'8,1 di indice ISTAT definitivo con arretrati appunto decorrenti da gennaio. Facciamo quindi i calcoli. Per gli invalidi parziali e totali nel 2022 l'assegno senza maggiorazioni era di 292 euro. Da gennaio 2023 è passato a 313 euro e tenetevi forte con questo anticipo di conguaglio Giorgettiano arriveremo a 316 euro con circa 26 euro di arretrati spettanti. Per i ciechi assoluti 316 euro l'assegno nel 2022, 339 da gennaio 2023 e con l'anticipo di conguaglio più 0,8% arriviamo a 342 con 28 euro circa di arretrati. Per gli invalidi totali la maggiorazione sociale presumo resterà l'incremento al milione a 386 euro da sommare ai 316 per un totale di 703 euro circa. Passiamo adesso all'assegno sociale 469 euro nel 2022 che sono diventati 503 da gennaio 2023 e che nelle prossime buste tra novembre e dicembre più probabilmente arriveranno a 507 euro con 40 euro circa di arretrati. Quindi questo anticipo di conguaglio non porta ad alcun sensibile guadagno o miglioramento particolare in busta. Certo a dicembre arriveranno fortunatamente tredicesime e anche bonus ma bisognerà attendere 10 gennaio 2024 per vedere la rivalutazione quella vera, più corposa che ancora non è stata comunicata. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, parola d'ordine, Giorgettino Aumentino. Alla prossima, un abbraccio da Mr. Lull.